Ciao a tutti, sono Antonio Gomiero, Executive Manager di Y-40. In questo momento siamo dentro del compresso di Y-40, il più profondito del mondo. Abbiamo aperto il Y-40 due anni fa. Y-40 è un profondito per scuba diversi e diversi diversi. Dentro di questa struttura facciamo corsi, dal comandante al comandante al comandante. Abbiamo molti scuba diversi e diversi diversi che usano il nostro pool per divertire una scuola sicurezza. Abbiamo scelto Bauer perché abbiamo bisogno di molto bene l'air. Abbiamo usato PE-700 due macchine per avere molto l'air perché abbiamo più di 200 dimenticati ogni giorno. Abbiamo bisogno di rinforzare l'air con buon rinforzamento in modo veloce. Y-40 è usato da molti campionisti freediving, che venivano qui per fare treningi e stagioni. In Y-40 potremmo fare anche tecnico e cave diving. E quindi pensiamo che è molto importante che il nostro scuba diver respira. E quindi, che tipo di hair ha dentro dei nostri bottoni. In questo Bauer ci supporta molto bene. Abbiamo scelto il nostro accessorio Bauer B-Cool perché abbiamo bisogno di avere il nostro comprensor nel miglior modo di funzionare. B-Cool è un accessorio che dà una vita lunga a la cartraggia dell'air. e abbiamo molti rinforzamenti ogni giorno. Quindi, con B-Cool, il nostro cartraggio funziona per un lungo tempo e con davvero buon air. In Y-40 pensiamo che il mostro importante scuba è l'air che è dentro dei nostri tank. In questo, siamo completamente sicuri del Bauer, perché è stato sotto controllo del nostro servizio tecnico e del Bauer. Normalmente, qui abbiamo rinforzato più di 200 tanti al giorno, ma nel giorno più più rinforzato abbiamo rinforzato 600 tanti. Quindi, abbiamo bisogno di essere sicuri del nostro comprensorio e non avevamo nessun problema con il nostro comprensorio. Quando abbiamo scelto il Bauer, due anni fa, siamo sicuri del nostro scopo. Dopo due anni, possiamo dire che siamo ancora sicuri del nostro scopo perché avevamo un servizio perfetto costumare e il nostro comprensor ha funzionato molto bene. Siamo davvero felici di scegliere il Bauer in questo momento, perché in questo periodo non avevamo nessun problema per il nostro comprensorio, e tutte le persone sono molto felici di usare il nostro comprensorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.